Inizia con il piede giusto il campionato nazionale di Serie A per l'Aquila Rugby Club che di fronte al numeroso pubblico del Fattori esordisce nella fase territoriale girone 4 con una vittoria per 36 a 12 sull'UR Capitolina, una delle squadre più accreditate del girone. Parte subito bene il 15 di Troiani e Rotilio che va in meta dopo il primo giro di orologio grazie al buco creato da Nicolò Speranza nella difesa avversaria. La giovane apertura Filippo Di Marco trasforma, reagisce immediatamente la Capitolina che trova il pareggio con la marcatura di Alessandro Iacolucci. L'Aquila subisce la pressione dei Romani ma nella seconda parte del primo tempo tenta e riesce nell'allungo. Al 27esimo è il talonatore Nicola Rettagliata, tra i migliori in campo, a schiacciare tra i pali. Seguito dal capitano Alessandro Cialone tre minuti più tardi. L'unico calcio piazzaro della gara, messo a segno da Di Marco, manda le squadre negli spoiatoi sul 24 a 7. Nel secondo tempo la partita scende vistosamente di ritmo ma l'Aquila continua a difendere Mene respingendo i tentativi di rimontane della Capitolina. Dopo nove minuti una bella azione del pack nero-verde porta alla quarta meta, quella del bonus offensivo firmata da Luciano Montivero. Nella parte centrale della ripresa la Capitolina va all'assalto ma i nero-verdi tengono bene sui punti d'incontro. Il finale vede l'Aquila in inferiorità numerica per due gialli prima a Cerone e poi a Gentile ma comunque a segno con la quinta meta di Giorgio Erbolini che si invola dopo uno splendido intercetto. Nell'ultima azione arriva anche la seconda meta della Capitolina con Stefano Bitonte. Prima della partita il 15 nero-verde ha indossato la t-shirt Il Fatto non Sustiste 6 aprile 2009, il ricordo di Ciccio Sebastiani e di tutte le vittime del terremoto ed in seguito alla sentenza nel processo grandi rischi bis emessa a vendere discorso all'Aquila. In mattinata invece il concentramento regionale organizzato dal Comitato FIR regionale in collaborazione con Rugby Experience ha visto la partecipazione di circa 250 bambini e bambine nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Hanno partecipato al concentramento le società Arnold di Roma, Avezzano e Polisportiva L'Aquila. Ed è stata una partita molto piacevole. All'inizio forse un po' troppo ansiosi di andare subito a segnare. Logicamente gli avversari non te lo permettono però tutto sommato poi ci siamo rilassati e abbiamo giocato un po' più sciolto, un po' meglio.